L'investimento principale è sicuramente in innovazione. Cosa intendo per innovazione? Perché noi abbiamo un modo abbastanza particolare di farla. Abbiamo lavorato tanto per mettere a punto dei sistemi strutturati di forecast tecnologico per capire quali sono i trend tecnologici e quindi poi andare ad innovare in aree ben precise. Adesso stiamo spendendoci molto su tutti quelli che sono i possibili scenari quindi sull'elettrico dove in parte si possono utilizzare anche parti che già si usano per i termici perché ad esempio le valvole ad acqua o delle gestioni elettroniche che prima raffreddavano il motore e adesso magari vanno a raffreddare le batterie. Investiamo molto sull'innovazione dei sistemi di ricarica che se uno pensa a qualche anno fa come erano grandi oggi uno vede queste colonnine piccole e wallbox che hanno aggiunto potenza e questo è tutto frutto di un grosso investimento in ricerca e sviluppo. L'idrogeno è molto complicato da gestire parliamo di pressioni nei serbatoi intorno ai 600 bar che poi calano man mano che il serbatoio si svuota e quindi poi addirittura bisogna ricaricare a riuscire a ripristinare queste pressioni quindi i sistemi che noi chiamiamo smart valvole sono praticamente delle valvole intelligenti e l'elettronica che le gestisce per gestire sia che l'idrogeno venga usato nei motori endotermici sia che venga usato per alimentare delle full cell sono molto complessi e quindi è un know-how che prima non c'era bisogna crearlo e quindi gli investimenti in cui comportiamo sono questi know-how, formazione e ricerca e sviluppo in questi ambiti. L'elettronica è già una realtà, è indiscutibile al di là di tutte quelle che possono essere le polemiche ci sono le fazioni contrarie l'idrogeno è tutto da creare ma sicuramente soprattutto in certi ambiti parliamo solo del trasporto pesante dove magari delle batterie non sono in grado occupo mezzo camion magari con le batterie e quindi sui mezzi pesanti l'idrogeno può avere un futuro ma anche il motore termico perché noi a volte parliamo della mobilità e abbiamo in mente l'Europa, l'America o la Cina che già adesso è molto avanti chi ci va spesso, io ci vado spesso nel giro di 3-4 anni sono viste passare adesso sono queste tutte vetture elettriche poi ci sono anche altri paesi mi viene in mente il Sud America mi vengono in mente paesi che tecnologicamente non sono magari allo stesso livello continueranno a usare motori termici quindi il fatto di investire in ricerca e sviluppo per ridurre comunque il contributo all'emissione inquinante di questi due motori secondo me è fondamentale poi appunto quale sarà lo scenario dominante se ce ne sarà uno o meno non è certo noi abbiamo ritenuto importante a sicuro questa politica che è quella di essere presenti su tutti questi fronti grazie a tutti